Buongiorno, buongiorno, benvenuti a Rassegnati, il podcast di Feff Academy. Rassegnati siamo noi tutti, a cui tocca tutti i giorni sorbirci la propaganda e l'informazione spesso pilotata e un competente dei nostri giornali mainstream. Io sono Matteo Bernabè, giornalista che per Feff Academy cura la parte informativa e che questa mattina è un pochino raffreddato, come si sentirà immagino. Questa è la rassegna stampa di venerdì 16 dicembre 2022. Allora iniziamo subito dal Corriere della Sera, c'è da dire subito che i giornali stamani aprono tutti, danno molto spazio a quanto deciso e annunciato, e sono due cose diverse e vedremo tra poco. Dalla BCE ieri, mutui più cari sale lo spread, scrive nel titolo principale il Corriere della Sera, la BCE aumenta i tassi dello 0,5%, crolla la borsa di Milano. Ministro Crosetto dice decisione presa con leggerezza, andiamo a leggere nell'incipit dell'articolo, la BCE ha alzato i tassi di 50 punti base, i mutui saranno più cari, le borse crollano, lo spread sale. Crosetto decisione presa con leggerezza, la Garda non è ancora finita e l'Italia acceleri sul MES. Poi il Corriere riporta caro energia, i leader UE spingono per il price cap, c'è l'intesa, e dopo vedremo che tipo di intesa c'è, ci sarà, non ci sarà in realtà. Comunque lo vedremo più tardi, su questa notizia ci torneremo più tardi. Fermiamoci un attimo su questa storia qui dell'annuncio della BCE, perché qui il Corriere dice alzato i tassi di 50 punti base, i mutui saranno più cari e questo è chiaro, perché aumentano i tassi e quindi è un effetto ovvio, cioè nel senso che i mutui a tasso variabile aumenteranno. Le borse crollano, lo spread sale. Ora, sulle borse crollano, lo spread sale, c'è da dire qualcosina, nel senso che le borse crollano non tanto per l'annuncio, cioè non tanto per la conferma dell'aumento dei tassi dello 0,5%, quanto per l'annuncio della Lagarde, perché lei dice non è ancora finita, continueremo ad aumentare i tassi. In qualche modo dice, è passata, sta passando la linea dei falchi sostanzialmente e quindi visto che ci sarà in prospettiva questa cosa qui, le borse crollano e le azioni vengono vendute, quindi le borse crollano. E su questo ci siamo. Però è sull'annuncio di quello che sarà il futuro, non tanto sul presente, su quello che è stato deciso ieri dell'aumento di 50 punti, 50 punti base che era stato ampiamente annunciato ed era anche sulla scia di quello che aveva deciso la Fed nei giorni scorsi. Ok? Quindi, e questa è la cosa che volevo dire sulle borse. L'altra cosa è sullo spread. Lo spread non è salito ancora una volta per l'aumento dei tassi, ma per l'annuncio della Banca Centrale Europea di ridurre da marzo gli acquisti di titoli e qui sulla prima pagina del Corriere della Sera non viene evidenziato questo aspetto ed è un aspetto importante da far notare perché uno dice, vabbè, la BCE aumenta di 0,5% quindi le borse crollano e lo spread sale. No, è sugli annunci e infatti poi vedremo dopo anche il titolo che fa Milano Finanza su questa cosa che, diciamo, secondo me ha centrato un po' quello che è il punto. Ma su questa cosa qui ci ritorniamo. Restiamo un attimo sul Corriere della Sera, vediamo le altre notizie. I viaggi di Panzeri in Qatar e Marocco ha incontrato il capo degli 007 di Rabat. Primo viaggio in Qatar per nove giorni, poi in Marocco per altri sei giorni. Gli investigatori di Bruxelles avevano sotto controllo già da diversi mesi gli spostamenti dell'ex europarlamentare, del PD lo diciamo noi perché sul Corriere anche stamani non è scritto. Antonio Panzeri al centro dello scandalo tangente al Parlamento europeo e anche i servizi italiani sono stati coinvolti nelle indagini. In uno dei viaggi è il sospetto. Panzeri avrebbe incontrato il capo del 007 di Rabat e l'inchiesta si allarga, caccia i politici corrotti. Vabbè, lo sapevamo già da almeno due giorni che l'inchiesta si stava allargando, però quindi non aggiunge molto il Corriere della Sera, almeno sulla prima pagina questa mattina. L'altra questione che ho selezionato riguarda questa apertura del CIO, che è il Comitato Olimpico Internazionale agli atleti russi, tornate alle Olimpiadi. La Russia torna alle Olimpiadi, l'obiettivo del CIO è avere gli atleti già per Parigi 2024. Mi fa piacere che questa follia di eliminare i russi da qualsiasi parte della vita sociale e culturale stia rientrando in qualche modo. Però Zelensky, duro, idea sconvolgente, dice, e la guerra non si fermerà neanche a Natale, scrive il Corriere della Sera. L'altra cosa che ho selezionato, che vabbè, qui più che altro per il titolo, non tanto per i dati che possono essere in risalita relativamente al Covid, l'avanzata del Covid, ha scritto il Corriere «La Cina teme l'onda mortale». Ragazzi, qui si sta parlando di Ebola, Ebola. Vabbè, dai, quando ho letto sto titolo mi è venuta in mente la frase di Edgar Allan Poe quando diceva «Non credere a niente di quello che senti è solo alla metà di ciò che vedi». Quindi è perfetta per questo titolo, oserei dire. Ma anche per, insomma, applicandola al nostro panorama mediatico, diciamo che ha molto senso questa frase. Ecco, mettiamola così. Passiamo su Repubblica che dà molto spazio invece al Qatargate ancora. Tangenti, il terzo uomo. La Procura accusa l'eurodeputato PD Cozzolino, qui aggiunge un elemento che non c'era sul Corriere, per esempio, e valuta l'autorizzazione a procedere. Nel Qatargate si aggrava la posizione dell'euro parlamentare PD Andrea Cozzolino mentre a Strasburgo i due maggiori partiti popolari socialisti predicano cautela per gli esiti dell'inchiesta. E qui, vabbè, poi ovviamente viene riportata anche la notizia sulla Lagarde che annuncia altri rialzi dei tassi. E poi, e poi, e poi ho selezionato questa notizia che spero che vada poi a buon fine perché, diciamo, negli ambienti governativi, in qualche modo, si conosce bene il tecnico, il direttore generale del tesoro che è questo Rivera che viene indicato come una persona molto influente, molto influente e stamani Repubblica dice che la Premier Meloni vuole la testa del tecnico Rivera. Ora, non dico speriamo perché chiaramente, però, insomma, potrebbe essere un, e non dico neanche che possa essere una svolta clamorosa, però, diciamo, a livello di ambienti governativi sicuramente potrebbe essere un cambio di passo. Ecco, questo lo possiamo sicuramente far notare. Bisogna vedere poi chi andrà eventualmente al posto del direttore generale del tesoro. Anche perché il Ministero dell'Economia, lo sappiamo, è una sorta di governo dentro al governo. Ecco, ok? Sappiamo bene che da molti anni è cooptato dagli ambienti, diciamo, più legati a Bruxelles che non all'Italia. Ok, a Bruxelles e all'impostazione di teoria economica neoliberista, eccetera, eccetera. Quindi, vabbè, su questo poi ci potremo ritornare, ma ne abbiamo parlato anche nei nostri video, eccetera, eccetera. Però volevo far notare questa cosa, questa notiziola qui, che la Repubblica riporta proprio in piccolo sulla colonna di destra della prima pagina. L'altra notizia che, vabbè, ora passiamo invece alla stampa, su Repubblica non c'è altro da segnalare. Italia Lagarde è scontro totale, riporta alla stampa. Secondo me è un titolo un po' esagerato perché, insomma, non c'è nessuno scontro vero poi alla fine, no? Quindi, anche se poi la Lagarde dice ci auguriamo che l'Italia ratifichi presto il MES, è un'anomalia che non lo ratifichi. Bene. Un messaggio, quello della Presidente della BCE, Christine Lagarde, scrive la stampa che rompe nel dibattito politico italiano nel giorno del quarto rialzo dei tassi del 2022, con un altro mezzo in punto in più dell'annuncio sullo stop al riacquisto di titoli da marzo 2023. Ecco, questo è il primo giornale che lo dà tra, diciamo, i giornali mainstream, fa notare questo aspetto. Però nessuno che metta mai in correlazione questo annuncio col fatto che lo spread sia aumentato. Qui si dice molto banalmente, molto semplicemente, sono aumentati i tassi e aumenta lo spread. No, non è proprio così una conseguenza diretta, anche perché se andiamo a vedere i grafici, per esempio, se confrontiamo i grafici dei titoli di Stato, dei BTP italiani e del Bund tedesco e del Treasury americano, quindi che fa parte di un'altra area monetaria, diciamo, il titolo decennale americano, vediamo come ci sia una grande differenza, cioè all'annuncio dell'aumento della Federal Reserve, per esempio, non c'è stato questo aumento così vertiginoso dei rendimenti dei titoli di Stato americani. Ma è successo così, invece, nell'Unione Europea, perché chiaramente c'è stata una dichiarazione precisa della Lagarde che ha detto da marzo ridurremo di 15 miliardi l'acquisto dei titoli di Stato dei paesi nazionali che compongono l'Eurozona. Ed è questo che ha fatto schizzare lo spread in alto, non l'annuncio dell'aumento dei tassi. Spero che questa cosa sia chiara. Sul Sole 24 Ore, invece, sulla stampa non c'è altro di interessante da segnalare. Sul Sole 24 Ore, ovviamente, si apre con la notizia principale, che è quella della Lagarde. Lagarde-Falco, tonfo delle borse, da marzo taglio l'acquisto di titoli. Ora qui il Sole 24 Ore ha messo in grande evidenza che da marzo ci sarà una riduzione dell'acquisto di titoli di Stato. E perché è aumentato lo spread, quindi? Lagarde annuncia che da marzo ci sarà un taglio all'acquisto di titoli di Stato. Quindi i mercati sanno che, diciamo, potranno contare, ci sarà una, verrà meno un pezzo di garanzia sui titoli di Stato da parte della Banca Centrale. Quindi questo porta chiaramente a un aumento del rischio, in qualche modo, perché la Banca Centrale è l'unica banca che può emettere monete e quindi acquistare illimitatamente titoli di Stato. Quindi venendo a mancare questo pezzo chiaramente aumenta il rischio che questi titoli possano non venire rimborsati a scadenza e quindi chiaramente viene chiesto un rendimento maggiore. Ecco, questa è un po' la dinamica, ok? Andiamo a vedere che cosa scrive su questa cosa il Sole 24 Ore. La politica BCE di rialzo dei tassi proseguirà, basta questo alle borse per innescare le vendite. Infatti qua, secondo me, il Sole 24 Ore la legge in maniera corretta, ok? La politica di rialzo dei tassi proseguirà, basta questo alle borse per innescare le vendite. Certo, gli annunci spesso, o quasi sempre, diciamo a livello di banche centrali, fanno molto di più rispetto alla decisione in sé presa, la decisione concreta presa in quel preciso istante, ok? E abbiamo, diciamo, un altro caso simile, per esempio, molto famoso, è quello del famoso Whatever It Takes di Draghi. Cioè, all'annuncio del Whatever It Takes, il rendimento dei titoli di Stato è crollato, perché sapevano, i mercati a quel punto avevano la certezza, dall'annuncio del presidente della Banca Centrale Europea, che allora era Draghi, dieci anni fa, che la Banca Centrale sarebbe intervenuta in tutti i modi per poter salvare l'euro, salvare l'euro significava sostanzialmente intervenire sul mercato per acquistare titoli di Stato, ok? Quindi questa era la razza, e quindi spesso, spero non dire sempre, a livello di banche centrali contano più gli annunci che non le notizie in sé, le decisioni concrete prese in quel dato momento, ok? E poi c'è, segnalo questo, diciamo, commento di Donato Masciandaro, il titolo che dice parole fumose quando invece serve trasparenza, ok? E poi, vabbè, poi chiaramente sul, l'abbiamo già detto prima, sui riflessi sui mutui, l'Euribor ora è più costoso dell'Eurirs dal 2023, scusate, variabili, i mutui a tasso variabile saranno più cari di quelli a tasso fisso. L'altra notizia che ho selezionato, vabbè, questo è giusto per avere un aggiornamento, sul censimento Istat, Italia sempre più vecchia, l'età media sale a 46,2 anni, e vabbè, lo sapevamo che, insomma, il paese stava invecchiando. L'altra notizia, sul sole 24 ore, sulla colonna di destra, riguarda sta telenovela del price cap, ok? Del tetto al prezzo del gas, intesa politica a vertice UE, ma si tratta ancora sul prezzo, cioè quindi vuol dire che non si è arrivato ancora a nessun accordo, perché, chiaramente, sì, va bene il tetto al prezzo del gas, però poi se non c'è un prezzo, e poi bisogna vedere che tipo di prezzo, semmai, si raggiungerà l'accordo, ok? Via libera del summit UE alle conclusioni del consiglio sul capitolo energia, scrive il sole 24 ore, incluso il punto in cui i leader chiedono di stabilire un meccanismo di correzione del mercato, ovvero un price cap, ma non c'è ancora un'intesa sulla soglia, una definizione del prezzo è attesa lunedì. Il ministro per gli affari europei, Fito, dice, su energie e minimum tax è stato centrale il ruolo del presidente Meloni. Vabbè, è questo, lasciamoli ai politici questa roba, queste esaltazioni inutili. Andiamo su Milano Finanza, l'ho annunciato prima, che secondo me ha fatto il titolo quello un po' più forte, però secondo me quello che ci ha preso meglio, cioè l'ha centrato meglio, la BCE vuole la recessione, Lagarde inasprisce inutilmente il rialzo dei tassi e fa notare questa cosa a Milano Finanza, che è quello che dicevamo all'inizio, cioè la Lagarde poteva limitarsi ieri a fare un annuncio dicendo che i tassi di interesse salgono, restiamo alla finestra a vedere quello che succede e vedremo in futuro. Invece lei è stata molto netta, ha detto che i tassi di interesse oggi salgono dello 0,5%, come era stato già ampiamente annunciato, però la nostra politica su questa linea andrà avanti, quindi non è la linea da falco di Francoforte, come scrive Milano Finanza stamani, che a stroncare i mercati. Poi vabbè, le banche superano il test sul patrimonio, ma la vigilanza UE chiede di più e questo è un altro aggiornamento. sul Milano Finanza non c'è altro da segnalare, a parte questo aggiornamento su Ilva, il ministro Urso chiede, l'ex Ilva chiede piano per rimettere un miliardo nel capitale, ma il progetto non c'è. Ecco, ci piacerebbe vedere un progetto vero di nazionalizzazione, visto che qua si tratta di un settore strategico dell'economia, l'acciaio è un settore strategico, si nazionalizzi l'Ilva. Sul Messaggero invece ho riportato questo aggiornamento sulla telenovela, anche qui Superbonus, ne stanno facendo di tutti i colori, stanno stroncando una misura che funziona, migliorabile, ma che stava funzionando alla grande e nelle rassegne stampa di giorni scorsi e anche nei video, nei nostri video sul nostro archivio, si trova ampio materiale su questo argomento. Superbonus in manovra la proroga al 31 dicembre. Confermata la proroga del Superbonus 110% al 31 dicembre sarà inserita nella legge di bilancio, ma dal governo arriva una stretta sulle assemblee condominali. Saranno infatti ammesse alla proroga solo quelle che abbiano già dato l'ok ai lavori di ristrutturazione entro lo scorso 11 novembre. Inoltre gli amministratori di condominio dovranno firmare un'autocertificazione sotto la loro responsabilità penale che garantisca che l'assemblea sia effettivamente svolta in quel determinato giorno. Chiudiamo con la verità, chiudiamo con la verità come al solito. Euroscandalo c'è anche Gualtieri. Ecco qui la verità per esempio ci aggiunge un elemento allo scandalo Qatargate che sugli altri giornali non appariva. Il nome del sindaco di Roma, ex parlamentare europeo, ministro dell'economia giallorosso, nella lista degli amici, stilata dai servizi segreti marocchini. Assieme a lui compare il compagno di partito Benifei, che è il capogruppo del PD all'Europarlamento. I viaggi di Cozzolino e Panzeri a Casablanca. Il sospetto mazzette da rabat per condizionare la politica migratoria ai nostri danni. Scrive la verità, si allarga l'indagine alla quale collaborano anche gli 007 italiani. Ultime due notizie che ho selezionato. Una è a centro pagina. Gli aiuti di Draghi erano tassati. Nel 2022 al fisco 43 miliardi in più. L'aumento per l'extragetito dell'IVA causato dall'inflazione che si voleva combattere. Nei primi dieci mesi dell'anno, riporta l'incipit dell'articolo, incassati 43 miliardi di tasse in più, soprattutto grazie all'extragetito IVA legato all'inflazione. In pratica si è creato un circolo vizioso. Con una mano il governo Draghi ha incamerato, con l'altra ha distribuito aiuti e sussidi, che non è nient'altro quello che è stato fatto negli ultimi decenni. In Italia, sostanzialmente, con la politica di avanzo primario che è stata portata avanti, da una parte si toglieva di più dall'altra. Sostanzialmente questo era un po' il giochino che sta continuando. Insomma, quindi questo è un'ulteriore conferma. L'ultima notizia che ho riportato riguarda la questione Covid. Perché qui c'è un virgolettato di un medico legale che dice Poche autopsie su chi muore dopo il vaccino. La denuncia del medico legale non si indaga sugli effetti avversi. E nell'incipit dell'articolo si scrive Rispetto alle sospette morti per vaccinazione, le autopsie eseguite sono meno dell'1%, spiega Robby Manghi, medico legale consulente del tribunale. Si va a verificare solo se la morte sia avvenuta per reazione anafilattica. Quindi c'è sempre una soluzione scontata dei vaccini. Servono altri esami, dice il medico legale. E secondo me, io parlo da ovviamente ignorante, da persona che guarda quello che sta accadendo e si fa delle domande. Quindi secondo me questo medico legale ha ragione. Ma soprattutto per un motivo, ma per un motivo molto banale. Io dal mio punto di vista, diciamo tra virgolette privilegiato, di giornalista, io lavoro anche per un giornale a livello locale. Quindi sto vedendo in questo periodo, in questi mesi, un aumento di morti premature, improvvise, malori improvvisi, che non avevo mai visto. Io faccio questo lavoro e dal, diciamo stabilmente, dal 2009. Ok? Dal 2009 a oggi. Una moria del genere non l'avevo mai vista. Ora non so se è perché, diciamo, c'è questo, diciamo, questo hype della questione vaccini, effetti avversi, che potrebbe, diciamo, incrementare queste notizie. Però la morte prematura la davamo anche prima come giornalisti noi e tante morti premature così numerose non ci sono mai state. Non ci sono mai state. Quindi secondo me questo medico legale ha pienamente ragione. Bene, questa era l'ultima notizia. Mi sembra che non ci sia altro da aggiungere. Questa era la rassegna stampa di venerdì 16 dicembre 2022 da Matteo Bernabè e un buon fine settimana a tutti.